Lega Ambiente ha accolto la richiesta del Comune di fare del Parco Miralfiore un parco sempre più frequentato dai cittadini, sempre più supporto della vita sociale dei cittadini pesaresi. È per questo che noi abbiamo proposto di fare un progetto che preveda una nuova organizzazione del parco, un coinvolgimento naturalmente in questo progetto dei cittadini pesaresi e in particolare dei giovani, gli studenti. Infatti da questo punto di vista abbiamo preso contatto già con le scuole, con il Cecchi, il Mengaroni, il Genga, che parteciperanno a questo progetto, ma il progetto è aperto anche alle altre forze. Noi intanto abbiamo costituito un comitato nel quale ci sono dei professionisti, ovviamente, che sanno progettare un parco, che sanno leggerlo e quindi suggerire cose importanti per usufruirlo sempre di più. È un comitato aperto, perché questo è soltanto il primo nucleo. Noi gradiremmo molto coinvolgere tutte le forze che sono interessate ad avere un parco come questo, che è una cosa bellissima, all'interno della nostra città per utilizzarlo al meglio. Io penso che, ripeto, in 23 teri c'è lo spazio per tutte le sensibilità. Si sta lavorando con Lega Ambiente, appunto, con il professor Salbitano nel progetto del Parco della Salute. Il contenitore è in grado di ospitare tutto. È chiaro che la priorità mia dell'amministrazione è la sicurezza, perché questo posto è vissuto, è vivibile, se trasmette sicurezza. Non quello che succedeva tanti mesi fa, dove sui giornali, un giorno sì, un giorno sì, erano riportati episodi di microcriminalità che si verificavano intorno al parco. Questo problema lo stiamo superando piano piano, assieme alla grande disponibilità e energia che ci mettono anche tutte le forze dell'ordine. Adesso, ogni mese, proviamo a mettere un tasselli più per renderlo appetibile e funzionale, non solo per la città, ma vogliamo che diventi uno strumento anche di accoglienza turistica. Tutti parlano di ambiente e di benessere, è un luogo più bello di questo, è difficile trovarlo. Auspichiamo che le altre organizzazioni ambientaliste vogliano partecipare a questo progetto per il parco Miralfiore, ma non solo, perché noi parliamo appunto del verde della città di Pesaro e il parco Miralfiore è uno dei luoghi, poi ce ne sono tanti altri importanti. Noi vorremmo che ci fosse un collegamento con questo progetto proprio di tutto il verde urbano della città, per renderla più vivibile, perché come diceva anche l'assessore Belloni, noi oggi siamo alle prese con una crisi climatica importante e gli alberi, la natura, il verde, sappiamo bene che svolgono una funzione principale, prioritaria, per risolvere in qualche modo, per attenuare anche in qualche modo questi fenomeni. Quindi la collaborazione è aperta a tutti, noi non abbiamo preclusioni di nessun genere. Se ci sono state polemiche nei mesi scorsi, io penso che lavorando concretamente a questo progetto noi possiamo superare anche queste polemiche, perché lavoriamo per il parco e soltanto per il parco.